Buonasera, io sono Concetta Candido. Nel 2017 ho fatto un gesto di protesta all'UNTS, mi sono data a fuoco. Non riuscivo ad avere la Naspi perché c'era un ritardo nella presentazione della domanda, in quanto loro sostenevano che io avevo presentato la domanda a maggio, ma io in realtà l'avevo presentata già a gennaio. Il risultato era che io quando avevo presentato la domanda in quel periodo risultavo malata e tuttora mi chiedo ma da malata non avrei dovuto percepire qualche cosa. Comunque la faccenda si è risolta, pazienza, amen così, va bene così. Dopo questo gesto sono stata ricoverata all'ospedale al GTO. Sono stata ricoverata al GTO dove ho fatto un percorso di recupero e poi successivamente sono stata ricoverata all'ospedale di Settimo dove sono stata dieci mesi. Uscita da lì poi ho iniziato un percorso esterno di cure e terapie, tra cui compilista, fisioterapista, psicologa, controlli chirurgici periodici, otorinolingoiapia, percorsi che comunque nel tempo stanno andando avanti e ancora da tutt'oggi percepisco una pressione di maledità. Non posso lavorare per via della mia taccostomia. Ho ricevuto anche l'unità lavorativa. Sono a casa con i miei genitori, qui a Settimo, e sostanzialmente mi prendo cura di loro. Mio papà ha problemi con la memoria, ha una demenza semile e mia mamma ha problemi con il diabete e neuropatia. Io nel mio piccolo cerco di dare il mio aiuto. Ho diversa energia alle polveri, quindi mi è difficile fare pulizia in casa, però cerco di fare quello che posso. Il Covid, per me il periodo del Covid, che tuttora è in atto, è un po' critico, perché comunque dovendo indossare il mascherine diventa un po' critico per me per la rispettazione, però cerco di fare quello che posso. Infatti in quel periodo uscivo molto raramente, sole proprio per l'emergenza. Adesso ho preso un pochino la routine con le visite. Ho un problema quando parlo, perché comunque dopo un po' mi stanco e la voce va giù, effettivamente. Adesso, scusate un attimo, bevo un po' d'acqua. Per andare su a fare i vari appuntamenti di visita e di controllo, a Torino generalmente mi faccio accompagnare, così evito di prendere i mezzi pubblici proprio per tante complicazioni dovute alla canula. Infatti l'ultima volta che sono andata in questi giorni, il dottor Spella, che è il chirurgo plastico che mi segue, mi ha detto che io sono a rischio polmoniti, polmonite, perché è una, più altre infezioni varie, e oltretutto, quando invece vado all'ospedale di Sette, vado alla mia psicologa, vado in bicicletta. È l'unica cosa che mi concede un po' di moto e evito di prendere i mezzi pubblici.